e per tutti i ragazzi sono Jesse questo nuovo video faccio questo video velocissimo perché ovviamente pochissimo tempo per registrare per dare i risultati del contest cioè non del contest sondaggio per il nuovo gameplay visto che dovevo uscire giovedì non ce l'ho fatta farlo uscire non ce l'ho fatta registrarlo alla fine ve lo porto oggi martedì 12 quindi io prima di tutto vi ringrazio per aver votato in tanti sia nei commenti che nella scheda come risultato è uscito fuori The Last of Us sono abbastanza contento ero uno dei giochi che ero più propenso a giocare per lo più The Last of Us e Until Dawn erano i giochi che ero più propenso a giocare anche se non l'ho mai giocato non è che mi abbia sempre incuriosito tantissimo però mi avrebbe fatto piacere anche giocarlo con voi quindi proverò a far uscire il primo bisogno del gameplay di The Last of Us il primo possibile perché devo comunque anche mettermi a registrarlo e non sarà facilissimo per mettermi di solito perché nell'ultimo periodo sono pienissimo di lavoro però rimanete a giocare sul canale iscrivetevi e attivate la campanella per avere subito le notifiche seguite quindi sui social quindi facebook c'è il canale telegram c'è instagram il mio profilo quello degli altri del canale io vi ringrazio The Last of Us è tutto ciao a tutti bella